Di Guglielmi, mi dice il nome e cognome, signora, così glielo metto bene sul secolo. Io sono Corona Lucia, vedova di Guglielmi Luciano. Signora, lei ha lamentato appunto... Lucia Corona? Lucia Corona? Lei ha lamentato il fatto che suo marito è purtroppo morto per... Poi è saltato dal recinto, hanno aperto le ringhiere, sa quelli le feriate, le hanno allargate, saltano di lì, dopo le hanno chiuse e poi hanno messo il 30 all'ora, dopo la morte, dopo la morte. Magari moriva un altro frangente, doveva morire, però è morto così, punto. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. Lei abita nella zona del Camporoia? Allora, mio marito e mio figlio hanno una casa a Calvo e mio marito andava per lavori lì, quindi tornava verso Ventimiglia. Mio marito è di Calvo, voilà.